Buonasera amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, ben ritrovati a Curvo Ovest. Siamo tornati nel nostro orario tradizionale delle 21.15, la ventitresima puntata stagionale. E' con grande piacere che vado ad introdurre questa sera l'ospite della serata, l'attaccante della Lucchese, Diego Fabbrini. Buonasera Diego. Ciao, buonasera. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. E poi non so, perché Diego mi ha detto che non conosco molto Noi TV per ora, lui è stato molto in giro, è stato anche all'estero. La fama dell'opinion leader penso ti sarà giunta però. Sì, sì, sì. Ah, ecco, quella sera. Quella sì. Salutiamo l'opinion leader Giulio Castagnoli, buonasera. Buonasera a tutti. Poggio a questo maglione verde, no, Ramarro, no. Basta con tutti che vede Pisello. No, 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 però è un verde. Va bene, va bene, va bene. Parleremo di tante cose, parleremo insomma del ritorno alla vittoria della Lucchese, questa è la cosa credo più importante. Sottolineiamo, tu caro opinion leader che sei l'uomo dei numeri, avrai notato che oggi è il 23 febbraio e fra due mesi, ora indipendentemente dal fatto che non sappiamo ancora quando la Lucchese giocherà l'ultima partita, se sarà di sabato o di domenica, se non sbaglio in casa con l'Olbia, fra due mesi finisce il campionato. Che non vuol dire che finirà la stagione, a me non ce la auguriamo, che vorrebbe dire il playoff. Però ci sono due mesi, intanto benvenuto a Lucca. Grazie. A un giocatore, che io non lo so adesso, poi chiederemo sostegno all'ufficio stampa se ci sta seguendo, un giocatore che credo nella storia della Lucchese sia uno, non dei tanti che ha avuto la Lucchese, che ha giocato nella nazionale maggiore. Sì, una volta. Eh, ti convocò Prandelli e sei entrato in un'Italia, mi sono preparato, in un'Italia e in Inghilterra, 1 al 2, al posto di un certo Balotelli. Sì, è così. Però hai fatto una bella carriera nell'Under 12, nell'Under 21, nel biennio 10-12, hai giocato 12 partite. Sì, principalmente con Casiraghi, anche lì fu una bella esperienza. Pierucci Casiraghi, avrei capito, il bersagliere era chiamato quando giocava. Era fuori. Grande centravanti. Eh, grande centravanti. Senti, hai fatto una carriera, introduciamo subito Diego, perché veramente tu sei arrivato a fine gennaio in pratica. Sì, l'ultimo giorno. Eh, dov'era? All'Ascoli? Io ero all'Ascoli. Senti, sei della Lucchese ora? Ora sono della Lucchese, sì. Che tipo di contratto hai fatto? Eh, fino a fine stagione. Fino a fine stagione. Quindi adesso ci sarà questo periodo per far vedere quello che... Certo, è normale. ...quello che Diego sa fare. Senti, è una carriera molto lunga, iniziata tanti anni fa nel settore giovanile dell'Empoli, se non sbaglio. Sì, io ho fatto tutta la trafila del settore giovanile lì a Empoli, poi ho fatto due anni di prima squadra a Empoli, e poi da lì sono partito, ci siamo fatto la prima esperienza fuori, no? Sono andato a Udine, Udine-Palermo, e poi sono partito a Londra. È stato in Inghilterra diversi anni. E abbiamo fatto sei, sette anni in Inghilterra. Dove ti sei trovato bene, mi dici? Sì, sì, mi sono trovato bene, è stata una bellissima esperienza. Watford? Sì, Watford. Hai conosciuto Elton John? No. No, no, si è visto però. Hai visto una volta. No, ricorda che Elton John è stato il presidente. Sì, sì, sì. Sapevi un pionio lì, le sai queste cose. Ovviamente. Sei preparato. Assolutamente. Eh, vabbè. E quindi l'esperienza dell'Inghilterra è stata molto bella. È stata anche in Romania. Sono stato in Romania. E poi solo a raccontare la tua carriera ci vorrebbe tutta la tua carriera. Tre anni. Sono girati di squadra, vai. Sì, sì. In Romania tre anni, mi sono trovato bene anche lì. Dinamo Bucharest. Ho fatto, sì, un anno al Bocsosani. E poi ho fatto due o tre anni alla Dinamo. Insomma, mi sono trovato bene. E poi c'è stata l'occasione, insomma, di rientrare in Italia. Io, e quindi quando c'è stata l'occasione sono rientrato a Ascoli. E ora eccomi lì. E ora qui alla Lucca. Tra l'altro, ecco, l'avrete sentito da come parla, che insomma... Si sente che è qui della zona. Sei originario? Beh, nella tua scheda leggiamo San Giuliano Terme, in realtà sarebbe... Sì, sono da Sciano. Che lì ha un tiro di schioppo. E ora stai qui a Santa Maria del Giudice. Sì, ora siamo a Lucca. Quindi proprio vicino anche alla nostra emittente, roba di pochi chilometri. Eh beh, sì, Santa Maria del Giudice, quanti chilometri... Ha scavalato il monte di pochi chilometri. Allora, ora interroghiamo l'opinion leader, perché la scheda di Diego Fabbrini dice esterno offensivo che in caso di necessità può giocare anche trequartista o seconda punta. Ora, prima di sentire lui, fammi capire da quello che hai visto finora vedendolo giocare, secondo te dov'è che può più essere utile per la Lucchese? Ma, allora, sicuramente Mancino col destro forse ci monta a macchina o non so neanche se ci monta... No, sono destro, sono destro. Come sei destro? Ti giri sempre sul sinistro? No, no, sono destro, sono destro. E se lo dice lui ti devi dire... Eh no, ma mi fido di te, mi fido di te. Sono destro. Ma sei ambidestro oppure proprio ha ragione lui? No, no, sono destro, sono destro. E quindi è col sinistro che ci... Eh bravo, forse è col sinistro che ci monta. Ah, vabbè, comunque allora io ho avuto... Cioè, chiaramente l'ho visto tutte e due le volte. Ha un piede forte e l'altro... Eh no, no, mi sembrava che facessi sempre il movimento sul sinistro, invece allora a questo punto lo fai sul destro, mi sembra evidente, per sicurezza. E comunque niente, no, vabbè, le caratteristiche sue sono quelle di un giocatore che salta quasi sempre l'uomo, perché comunque... Beh, è merce rara di questo. Esatto, sono quei classici giocatori, come si diceva anche di Rizzo Pinna, quando è venuto qui, che gli allenatori, diciamo, sbavano dietro questo tipo di giocatore perché li fa la famosa superiorità, li crea la famosa superiorità numerica, no? Perché quando un giocatore salta l'uomo può di fatto... E lui è molto abile perché l'ha già dimostrato e credo che non sia ancora al 100%, perché comunque probabilmente avrà bisogno ancora di qualche altra partita per dare sfoggio di tutto quello che sa fare, anche se ha già fatto vedere, diciamo, cose importanti. E chiaramente, allora, ho visto il mister, l'ha usato un paio di posizioni in queste partite, però a me piace quando parte, quando si fa dalla palla, insomma, su centrocampo, tre quarti, e fa la, diciamo, la percussione centrale, chiedere uno, due. Perché ho visto che è anche un giocatore che sa anche prendere diverse punizioni dal limite, quindi sono tutte cose, cioè, tutte cose che fanno, diciamo, che creano pericolosità, no? Come si dice, quindi... Sei al 100% o no? Ti manca ancora qualcosa? Ora, era tanto che non giocavo, però mi sento bene, quindi... Diciamo, ho bisogno un po' di prendere, sai, le dinamiche di gioco, però... Quasi. Quanti minuti hai nelle gambe? Sto migliorando... Quanti minuti pensi da vedere? Chiaramente ho bisogno di giocare, di fare minutaggio, di giocare per trovare confidenza, però, cioè, ho sensazioni positive, sto bene, quindi... Che poi ci si allena quando non si ha una squadra, perlomeno ti sarai allenato... Adesso però non è la stessa cosa che far parte... Ma no, ma a livello di allenamento alla fine cambia poco, magari ti manca un po' la partita, un po' il contatto con l'avversario, il ritmo, queste piccolezze più che altro. Vediamo le immagini dell'ultima partita, le vediamo volentieri, quelle di Lucchese-Vispesaro 3-0. Correggimi, aiutami Giulio, se non sbaglio, è la vittoria più netta della Lucchese quest'anno, sbaglio? Sì, mi sembra di sì. Tre gol di scarto, sinceramente, non vorrei dire una sciocchezza. No, no, mi sembra che sia la vittoria più netta, per quanto riguarda il punteggio. Sentiamo Diego. Allora, Diego, è stata una partita che inizialmente forse l'avete affrontata, perché c'era stata in precedenza la gara con la Re Canatese, che sicuramente è stata una domenica da dimenticare in tutti i settori, un po' di contratti, poi effettivamente nel secondo tempo ho trovato il primo cuore, è stato tutto un po' più facile. Ogni partita ha una storia a sé, poi le partite sono difficili, soprattutto all'inizio le squadre sono chiuse, le squadre si studia, però penso sia stata una buona partita, abbiamo fatto anche un bel risultato, ci voleva, dobbiamo continuare così. Ci poteva stare però sulla scia della Re Canatese di scendere in campo, perché c'era la necessità di riscattare quella partita, no? Sì, certo, ma anche la partita con la Re Canatese era una partita dove a volte succedono, magari le giornate dove non ne va una, si sbaglia tutto. A volte capita, come a volte ci sono le giornate dove fai un tiro e la metti all'incrocio. Ti riesce tutto. Però sì, era importante, bene così e ora pensiamo alle prossime partite. Che idea ti sei fatto di questo campionato? Noi abbiamo parlato molte volte qui a Noi TV, c'è l'opinion leader che poi magari riconfermerà anche stasera quella che è la sua idea. Che idea ti sei fatto di questo campionato di Serie C, nello specifico del nostro girone? Sai, io ho visto poco, lo so, però come tutti i campionati, ogni campionato ha le sue caratteristiche. Sicuramente è competitivo, non è semplice. Squadre tutte comunque organizzate, no? Sì, quello ormai… Velo tecnico se ne può discutere, ma quello ormai, sì, 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 sì. Quello ormai tutte le squadre sanno sta in campo, ormai… Si chiudono. Sì, bravo, si chiude. Soprattutto si chiudono, si chiudono tutti gli spazi, ecco perché avere un giocatore come te… Ecco sì, ormai tutti sono organizzati da quel punto. Io stasera lo cicchietto perché molte volte lui ha detto il calcio italiano qui, il calcio italiano là, tre squadre in Champions, ta 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 ta. No vabbè, lasciamo stare la Champions. È un caso. Lasciamo stare, come hai detto? È un caso. No vabbè, lasciamo stare la Champions. Allora, su questa partita, intanto vediamo anche il gol e vedremo tra poco il gol di Di Quinzio, molto bello anche, ringraziamo Tigo da spianare, che tramite Roberto Ambroci ci ha fatto avere questo gol, l'ha ripreso dalla curva, ora poi lo vedremo dopo quando sono finite queste. È chiaro che un tifoso che dalla curva riprende col telefonino un gol, cioè un'azione, finché il pallone non è entrato è stato molto bravo. Come il pallone è entrato, stranamente il telefonino ha cominciato a vibrare anche quello. Giulio, su questa partita. Ma questa partita, ti dico onestamente, la prima ora di gioco ha ricalcato un po', diciamo, quella che era stata, secondo me, la partita con l'Ale Canatese, quindi un ritmo basso, pochissime occasioni, addirittura loro che ne hanno create un paio molto molto pericolose. Diciamo che fino al gol del 1-0 la differenza l'ha fatta, diciamo, il fatto che la vispesa, la differenza dell'Ale Canatese, non è stata così cinica da portarsi magari in battaglia. Forse anche la chiesa in difesa non ha fatto quegli svarioni. No, beh, questo è chiaro, errori a parte, errori a parte. Poi, diciamo, l'ingresso di Diego e il crollo fisico di loro, che è stato clamorosamente netto, perché avevano giocato anche il mercoledì, loro la poi recupero col Ponte d'Era, loro praticamente poi sono usciti dal campo e dopo in campo c'è rimasta solo la Lucchese, solo una squadra, in campo solo una squadra, come cantano i tifosi in curva, no? Perché, diciamo, appunto, il fatto di essere trovati in svantaggio e essere crollati fisicamente, fino a che loro hanno retto a livello fisico, onestamente, mi sembravano molto più aggressivi, molto più tonici. Sono squadre che sono migliorate queste? Sì, sì, assolutamente. Della Reganatese, la Vispesaro, la Fermana, sono tutte squadre che sono migliorate rispetto al girone di Andrade. No, volevo fare i complimenti sul gol, non so, che abbiamo visto. Dobbiamo fare i complimenti a questo, io dico ragazzino, perché poi è un 2000, a Giovanni Bruzzaniti, no? Perché tra l'altro ha già fatto cinque gol. Lui, anche lui, è un esterno, un giocatore, sì, gioca in avanti, però... E il gol che ha fatto domenica è stato pure molto... È stato un gran gol. È stato un gran gol, che dici Diego? Sterno, per gol, per gol non era facile. Ha segnato il capitano, e poi dopo ha segnato, ora lo vedremo, eccolo qua, ha segnato anche Davide di Quinzio, eh? Su punizione, anche questo... Bello, anche bello. Il gol è stato un gol, e tra l'altro fra poco lo vedremo anche da dietro la porta. No, forse ti ho interrotto Giulio, volevi... No, no, ma ho concluso dicendo appunto che poi diciamo dal 1-0 un po' e quindi dal gol è stato fatto circa dopo un'ora di gioco, la restante mezz'ora in campo c'è rimasta solo la Lucchese, loro non avevano più la forza fisica... Forse sono crollati anche dal punto di vista mentale. Sono crollati fisicamente e mentalmente, dopo diciamo la Lucchese ha legittimato, però ecco se loro avesse ottenuto il ritmo che hanno tenuto per un'ora di gioco sarebbe stato secondo me un po' più difficoltoso. Poi magari la Lucchese avrebbe sbloccato lo stesso, però diciamo avvantaggiati da questo crollo fisico clamoroso. Poi l'ha detto anche loro allenatore, ma si è visto benissimo. Ecco intanto il gol, ringraziamo Tico Dispianate che spesso ci manda anche i messaggi, ecco qua, è dalla curva ovest, lo vedi ecco, poi quando il pallone entra il telefonino, vedi Diego, comincia ad andare da tutti, cioè il telefonino va come i tifosi, comincia a ballare. Beh, che curva hai trovato qui a Lucchese? Te l'aspettavi una curva così? Indubbiamente abbiamo detto tante volte, sono ragazzi questi che vi danno veramente grande forza. Certo, cioè io sono rimasto favorevolmente colpito un po' da tutto, insomma, da tutto l'ambiente in generale. Ed è un mese che si chiama, neanche, no, neanche. Sì, forse è un mese. Siamo al 23? Eh, un mesetto, dai. Quindi sì, sono rimasto favorevolmente colpito, ma un po' da tutto, da tutto l'ambiente. Vabbè, da qui ripartiamo, e poi voglio chiederti anche qualcosa, eh, di questa, della tua Under 21, perché tu hai fatto il ciclo 10-12. So che in quel ciclo lì c'erano dei giocatorini, eh, mica da poco. Ce lo dici subito dopo la pausa pubblicitaria, poi non conosci forse la trasmissione, lo vedi questo numero qui? Che io non ho ancora ricordato. Numero 20. 360-1038-330, questo qui, e lì raccogliamo i messaggi, sms, whatsapp, e vediamo, spesso criticano me e qualche volta anche lui. Magari per te ci saranno tanti complimenti, vediamo cosa ci dicono anche da casa. A tra poco. Allora, eccoci tornati, tra poco cominciamo a leggere anche tutti i vostri messaggi. Siamo con Diego Fabbrini e con il nostro opinion leader Giulio Castagnoli. Allora Diego, dicevamo di questa tua Under 21, perché hai giocato parecchie partite, hai fatto anche un gol. Era una classe, quella tua del 90, che poi, insomma, a quell'epoca aveva dei ragazzi anche molto. Beh, tutti quanti ricordiamo Balotelli, poi magari non ha fatto quello che ci saremmo aspettati, Santon, insomma, tanti giocatori con i quali hai giocato. Sì, c'era una bella squadra, anche un bel gruppo. C'erano anche diversi, sì, oltre a Balotelli c'era Santon, c'era Ranocchia, c'era Di Silvestri, Okaka. Condossare la maglia azzurra penso che è inutile chiedertelo, sia quando senti poi quell'inno. Sì, è uno magari dei sogni, dell'obiettivo, e ci hanno tutti i ragazzi che giocano al calcio. Beh, me lo immagino sicuramente, me lo immagino. Allora, questo campionato, cosa dici? L'ha vinto la Reggiana con il successo. Adesso Marco ci farà vedere anche i risultati dell'ultima giornata. Beh, c'era questo Cesena-Reggiana, Cesena-Reggiana non ha due, confronto diretto. La squadra in trasferta aveva quattro punti di vantaggio, va a vincere a Cesena. In questi casi cosa può costituire? Una mazzata per l'altra squadra? Sette punti a dieci giornate dalla fine? Sono tanti, sono tanti. O è ancora aperto? Secondo me, è chiaro che hanno un bel vantaggio loro, però... Adesso sono sette punti, sì. Otto. Sono pochi. Come otto? Eh, perché lo sconti... Ah, sì, sì, vabbè, certo. Non sono pochi, però aspetterei a dirvi. E invece per quanto vi riguarda, io l'ho detto anche in questi giorni in sede di commento, è un campionato molto, molto aperto perché io dico che fino a 49 punti dell'Ancona forse sono tutte squadre, no? Le prime quattro, ma dai 45 della Carrarese e 36 della Fermana, ora non so se vogliamo metterci dentro addirittura anche la Torres. Tante squadre per entrare nel playoff, no? Nella parte sinistra. Eh sì, ci sono tante squadre lì nel giro di 4-5 punti. Eh. Poi ci sono dieci partite, quindi dieci partite ci sono 30 punti disponibili. Cioè, può succedere di tutto. Eh, infatti. Può succedere di tutto. Infatti, tu Giulio come la vedi? Ma io lo sai, io sono sempre stato... Anche per il vertice è andata? Sì, sì, ma questo io l'avevo già detto. Avevo dichiarato che il Cesena, se voleva vedere la Serie B, il prossimo anno doveva fare l'abbonamento a Sky. Ti è andata bene perché pensa... Eh, lui ogni tanto si sbilancia. Pensa se il Cesena avesse vinto. Quando il Fiorenzuolo era primo, dissi che stava facendo punti salvezza, infatti il Fiorenzuolo era nella parte destra della classifica. Eh, non dette qualcuna, però vedi purtroppo o per fortuna... I dati non mi smentiscono. Quando si sbilancia poi rischia anche di prenderci. Eh, è chiaro, ma io mi sbilancio sempre volentieri perché ci indovino molto spesso. La Lucchesi ha sempre detto che era una squadra che era da settimo, ottavo posto, insomma, quella griglia, dal quinto al decimo posto. Se magari ti vanno bene due partite puoi arrivare a sesto, settimo. Se ti vanno male due partite puoi arrivare a ottavo, nono. Però non sono stato mai di quelli che ha avuto dubbi sul fatto che la Lucchese si sarebbe salvata agevolmente come appunto è stato. Perché la Lucchese non è mai stata nei bassi fondi della classifica. E' sempre stata lì, diciamo, a galleggio fra il decimo, il settimo, l'ottavo. Siamo stati anche terzi a due punti dalla prima, però era chiaro che venivamo da un filottino positivo che ci aveva fatto fare anche a qualcuno, non a me, sogni un po' di gloria. Però le partite se le guardi, diciamo, in maniera seria e serena ti rendi conto che a questa squadra qui qualcosa manca, no, per essere là su un cima a lottare con le primissime. E quindi di fatto però ho sempre pensato che comunque è una buona squadra che può tranquillamente lottare appunto nelle posizioni playoff, non nelle primissime posizioni playoff, ma insomma sempre playoff sono. Senti Diego, tornando al tuo ruolo, esterno offensivo, trequartista, seconda punta, dov'è che hai giocato, una carriera, dov'è che sei trovato? Ruoli non fatti tanto, quasi tutti davanti. Anche a centrocampo hai giocato, no? Sì, 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 a mezzare. Proprio come centrocampista? A mezzare. Io penso che il ruolo, cioè il ruolo che preferisco e che sia anche meglio secondo me per me è o l'esterno, l'ala. Quindi un 4-3-3? Sì, o se no anche la mezzala, la mezzala d'attacco è un ruolo che secondo me... Sempre con un 4-3-3 come modulo o un 4-2-3-1? Sì, quello modulo, sai, dipende, perché la mezzala magari c'è in tanti moduli. Chiaramente una mezzala d'attacco, però lì mezzala giocavo in Romania, mi sono trovato bene. Giocavate a tre? Sì, sì, giocavate a tre. Col centrocampo a tre, tu eri uno dei due oggi, si dice, Braccetti, non eri uno dei due Braccetti? Sì, bravo. Sulla destra immagino? Sulla sinistra. Sulla sinistra, così tornavi poi, rientravi sul destra. Ecco perché, sì, ecco perché l'opinion leader, mi sono rimasto perché di solito è molto, molto attento. Anch'io sono rimasto scioccato da me stesso, perché ero convintissimo che facessi sempre il gioco sul sinistro, quindi invece è sul destra, vabbè. Cominciamo a leggere i messaggi, prima però volevo chiederti, hai avuto anche tanti, insomma, hai detto Casiraghi, Prandelli che ti convocò, e nelle squadre di club hai anche avuto tanti tanti allenatori, no, nella tua carriera? Ce n'è uno particolare dal quale dici, da questo, questo mi ha dato qualcosina in più. Ce l'ho due, però no, sono dei settori giovanili. No, no, te li faccio. Ah, settore giovanile? Sì, sì, sì. Dell'Empoli? Oh, sì, perché ho fatto lì, sì. Il grande settore giovanile. Sì. Perché continua a tirar fuori… Sì, gli allenatori a cui io, insomma, li ringrazio, sono… Uno si chiama Ettore Donati, che l'ha avuto in primavera, e un altro ce l'ha avuto l'anno prima, all'alliavi nazionale, si chiama Giovanni Vitale. Giovanni? Vitale. Vitali? Vitale. Loro sono quelli che… Che ti hanno dato più di tutti gli altri. Sì, che mi hanno insegnato di più, sì, sì, sì. Ho capito. Cominciamo a leggere i messaggi, dai, ce ne sono tanti, come potevamo immaginare. Vediamo cosa ci scrivono. Allora, questo è Francia e da Borgamozzano, che come sempre, insomma, è soddisfatto della vittoria, e poi mi dice, e lui fa anche, parla della cittadella dello sport vicino al Palasport, cosa ne pensa? E cosa ne pensa? Purtroppo al momento il progetto è un po' tramontato, però, insomma, sappiamo che questa amministrazione, l'abbiamo detto più di una volta Giulio, mi sembra molto vicina alle vicende dello sport. Direi finalmente. No, io non ho detto finalmente, ho detto che mi sembra molto vicina e quindi, di conseguenza, Francia, cosa ti possiamo dire? C'è bisogno di impianti, questo è… e devo dire che con l'assessore sport Barsanti, la serata in cui fu presentato, diciamo, il nuovo socio di maggioranza Bulgarella, insomma, ho avuto un contatto, diciamo, ravvicinato, per cui mi ha promesso che una sera, una domenica sera, verrà a domenica replay a parlare soprattutto degli impianti, perché come sempre, se non ci sono gli impianti, tu hai parlato del settore giovanile dell'Empoli, dei tuoi primi allenatori, ma senza gli impianti, che sia calcio, sia neanche altre discipline, non si può fare lo sport, quando i ragazzi non possono praticare lo sport, è una cosa poco simpatica, indipendentemente dal fatto che uno poi possa arrivare in nazionale, se non è successo a te, oppure possa arrivare semplicemente a giocare così, semplicemente per passione. Poi abbiamo Luisella e Cesare di Ponte Amoriano, salutiamo Guido e Diego Fabbrini e Giulio Castagnoli, che hanno visto domenica Giulio Castagnoli ingradinata, domenica siamo abbonati, domenica bellissima vittoria con la Vispesare, domenica vittoria a Montevarchi, sempre forza lucchese, domenica c'è l'altra certa di Montevarchi, poi ne parliamo, perché poi uno guarda la classifica dice Montevarchi è ultimo, non vuol dire, ma non lo dico per così, non vuol dire nulla mi sembra questo campionato, veramente, vuol dire… Partite sono sempre… No, 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 è vero o no Diego? È vero, no, ma sembra una frase fatica, è vero, ma in tutte le… Sembra un luogo comune, ma credo non sia così, forse in altri campionati e in altre discipline può contare, qui insomma è chiaro, non vai a giocare a Reggio Emilia, questo bisogna essere onesti, non vai a giocare sul campo della prima, quindi un po' di differenza, però insomma, va bene, allora, Grande Pantera, questo è Dario Dozzano, fatemi controllare un attimo, che non ha… allora, va bene, come ti chiamavano, Dario, va bene, buon per te se ti chiamavano così, va bene, dice che col tempo si è un po' infiacchito, va bene, dai, Dario, su, fatti coraggio, dai, te pensa, guarda, guarda a me l'opinion leader, non siamo giovanissimi, però, soprattutto l'opinion leader, guarda com'è sempre tonico, no? Sono giovanissimo, vogliamo dare un bel messaggio a Dario di tirarsi su perché lo sento un po', eh? Eh, Dario, dai, buonasera a tutti, domanda per l'ottimo Fabbrini, già, l'ottimo Fabbrini, eh? L'ultima volta che è andato a vedere il Pisa, quando è stato? Ti chiedono quando sei andato a vedere il Pisa? Beh, tu sei di San Giuliano, quindi sei di quella zona. Sono andato alla finale di playoff, l'ultima volta. Come spera che arrivi a fine campionato? Non so se parli della Lucchese, dai, diciamo di tutti e due, come speri che arrivi la Lucchese e il Pisa, beh, sta andando discretamente bene. Io spero che… Silvano da Borgamozzani. Spero di arrivare chiaramente nei playoff, chiaramente non è facile, ci sono tante squadre, però noi dobbiamo puntare a quello, però noi dobbiamo, io ho sempre detto, bisogna pensare a partita dopo partita, uno cerca di vincere tutte, se le vince tutte magari fai 30 punti, però chiaramente non è facile, ci sono anche… No, vincere tutte può arrivare anche quarto o quinto se le vinci tutte, però chiaramente voglio dire che secondo me uno deve affrontare partita dopo partita, chiaramente cercando di vincere tutte le partite, chiaramente difficilmente riuscire a vincere tutte, però secondo me uno dovrebbe pensare così. 10 partite e 20 punti sarebbero molto buoni secondo me, metteresti la firma? 20 punti secondo me varrebbero il settimo posto, quel settimo posto che stiamo evocando e che sarebbe alla fine… Però la firma ora non ti ce la metto, intanto ci siamo, non me la metti su nulla… No, no, te la metto… Sembrano tanti, mi sembrano tanti i punti… 10 partite, vorrebbe dire fare una media ben superiore a quella che è stata tenuta finora… Vorrebbe di vincere 2 ogni 3… Quasi tutti… Insomma… Eh, vabbè, ho capito, ma devi pensare… Bisogna pensare anche un po' in grande, no Diego, perché… 2 ogni 3, fai 6 punti ogni 3 partite, sono 2 punti a partita, 2 per 10 20. Lo sai Fabbro… Beh, Fabbro? Ti chiamano Fabbro? A volte è capitato, sì. Beh, perché voi vi accorciate molto quando vi chiamate in capo, no? Sì. Usate il metodo Troisi, no? Te lo ricordi Massimo Troisi nel film? Sì, sì, sì. Fabbro… Allora, lo sai Fabbro questa maglia quanto pesa? Qui parlano della Lucchese. Certo. 25 maggio 1905, che l'Opinion Leader ci ricorda, è la data, eh? Di nascita. Quando nacque, eh? 8 campionati di Serie A, ti aspettiamo, dicono, con 4-5 gol. Conosci il grande Tony Immenso Carruezzo? Forza Diego, facci sognare. Beh, sì, Tony Carruezzo, penso che chi è che non lo conosce? Sì, lo conosco, lo conosco. Io, quando lui giocava, io ero vimbietto, ero bambino. Mi ricordo anche i derby che giocavano. Beh, lui era un centroavanti, lui era un centroavanti. Ha fatto qualche gol anche nel derby, mi sa. Eh, la fate sì. Buonasera, bella vittoria con la vispesa. Allora bisogna sbancare a Montevarchi. Obiettivo è di entrare a giocarsi il play-off e fare bene. Questo è Claudio, Claudio da Farneta. Ma siete veramente tantissimi. Ora abbiamo ancora un minuto, ne leggiamo ancora un paio. Allora, buonasera per Curvo Ovest, una domanda per Diego Fabbrini. Chi ti ha contattato? Sono curiosi, eh? Per venire in Rosso Nero, forza Luca, complimenti per la trasmissione. Luca da San Concordio. Grazie Luca. Ringraziamo, no Luca, eh Giulio? Poi, mio compaesano. Chi ti ha contattato? Ma, diciamo, è stata un'idea che è nata in poco tempo. Io, è un'idea che è nata da me e che poi ho parlato col direttore. Con Deoma, eh? E, insomma, in breve. Hai detto, sono fermo, sono qui. Si è fatto. Perché io volevo venire e quindi ci si è messo poco, insomma, a mettersi d'accordo e a fare. Non è stato complicato? No, 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 no. Ma perché è bello quello che dici? C'è il fatto che tu agognassi di venire a giocare con la maglia della Lucchese? Eh, io, così è andata, come ti ho detto. No, 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 io ti credo. Io ti credo. No, Giulio, è bello che lui si sia proprio agognato, no? Poi ci sono i beni informati che sanno che ha sposato una Lucchese, quindi, insomma. Eh, quando ci sono le donne di mezzo. È Lucchese, è Lucchese. È Lucchese, è Lucchese. È Lucchese, è Lucchese di adozione. Ma moglie è Lucchese. È a confine lei. Sì. Lei è di Ripafratta. Però lavora a Lucca. Siamo lì, va bene. Sappiamo tutto, però lavora a Lucca, quindi lui è a Lucca, è Satanna a Lucca. C'è Montuolo, Ripafratta. Senti là. È così, no? Sì, è vero, è vero. Anche io sono vicino a Montuolo, quindi siamo lì. E lui ha scavallato. Io scavallato. Si sta di qua, si sta di là. Non tirano la monetina e si va di là. Va bene, dai, torniamo tra poco. C'è anche uno che chiama. Io a questo prima o poi gli rispondiamo. Bisogna organizzare, bisogna fare... Mi rispondo io, non si sa che sono nervoso. No, ma non si sa che chi deve dire. Magari ci vuol fare complimenti. Va bene, dai. Torniamo subito dopo e ancora con Fabbrini, con il nostro opinion leader. Poi parleremo anche di questo Montevarchi. e voglio ricordarvi poi una cosa che riguarda la nuova pagina Facebook della Lucchese. Perché, insomma, è bene ricordarlo. Oggi tutti vanno sui social. Sei social? Sì, non tanto, però sì. Non tanto. Poi sì, ce l'ho, ce l'ho. C'è il profilo Facebook? Sì. Capito. Va bene, dai, lui è molto social. Non lo direste? L'opinion leader? Abbastanza social. Ma molto social. Io invece quasi nulla. Va bene, dai, linea della regia. 21.48, io, Diego Fabbrini, ricordo l'ora, perché siamo rigorosamente, lo puoi confermare, no? In diretta. Certo, sono qui. È giusto. Certo, è martedì, come tutti sapete, è martedì, siamo in diretta. Va bene, va bene. Allora, devo ricordare, non so, tu opinion leader sei già andato in mare, io siccome nella mia totale ignoranza, anche stasera ho detto, ma fammi andare a vedere la nuova pagina Facebook della Lucchese, non ci sono andato perché io facevo, nella mia completa ignoranza, facevo Lucchese 1905 Facebook e mi dava quella vecchia, naturalmente. Invece bisogna fare Lucchese, trattino basso, mi hanno detto, voi sapete cos'è, no? Trattino basso 1905, no? Lucchese, trattino basso 1905. Quindi c'è la nuova pagina Facebook. Come va la tua pagina Facebook, Diego, invece? Ma va bene, va un po' aggiornata. Come si chiamano? Un po' aggiornata. Hai followers, sì, hai followers. Sì, qualche d'uno, sì. Poi, ce l'ho detto, non è che ci sto tanto dietro, ogni tanto. Ma hai mantenuto qualche contatto con le esperienze all'estero, amicizie? Qualche d'uno, sì. Più in Inghilterra, in Romania? No, principalmente in Italia, magari. In Inghilterra? No, no, principalmente le amicizie. Ah, quelle dove hai giocato? Sì, sì, poi se mi dici ogni tanto senti qualcuno, ogni tanto via via, sì, anche magari inglese. Ma calcio inglese, se ne parla spesso, è così diverso dal nostro calcio. Cosa c'è di diverso? Alla fine è sempre un pallone che rotola, le 22 che ci stanno dietro, no? Eh, te ragione. Lo hai notato di diverso? No, io te l'ho chiaro perché tu l'hai vissuto qui. L'atmosfera, quando vai allo stadio, è completamente diverso. Anche le partite sono diverse, anche il tipo di gioia, come vivano tutti il calcio, è diverso. Lo vivono meglio di noi secondo te? Eh sì, io molto. Perché lo vivono meglio di noi? Noi lo viviamo con troppa polemica, troppa credine, ci trasciniamo anche durante la settimana. È questo il problema? Sì, là per esempio una volta finita, finita. Si parla della Brexit, si parla di Johnson, è finito lì. Se ne riparla quando si torna allo stadio? Sì, si riparla la prossima settimana, ma non ne parlano più della partita passata ormai non ne parlano più, poi se rivengano a vedere la partita, tutti rivengano allo stadio a vedere la partita e si vive anche le squadre, vivono in maniera diversa, è un po' più rilassata. Tra virgola. E noi c'è troppa tensione alla fine che poi… No, non è tensione, sai che è cultura. Lì c'è una cultura… Noi come cultura… Cioè noi, loro, perché poi alla fine il calcio da noi se vai in Spagna o vai in altri paesi… Ma tu sei stato anche in Spagna? Sì, poco però sì. Sei stato anche in Spagna. E Romania come sono invece? Sono più simili a noi. Non mi dimentico, sono più simili a noi, ti ho detto ma sono l'inglese. La Romania è un paese neolatino, i nostri antichi romani sono arrivati, pensa, fino là, eh? Eh Castagnoli? Infatti la lingua rumena è quasi… se uno ascolta attentamente quando parlano, è vero o no Diego? Si sente questo accento quasi, queste parole che hanno un po' di… Sì, è un mix. Di romanesco, è vero o no? Un mix, è vero. Vabbè, 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 dai. Leggiamo qualche messaggio, che dici Opinion Lida? Allora, questo Luciano fa una domanda che però, Luciano, se rimandi il messaggio non l'ho capita. Complimenti a Fabbrini, l'ho visto riscaldarsi tra il primo e il secondo tempo. Probabilmente parlano di domenica dove si è entrato nel secondo tempo. Mi ha impressionato come si muoveva. Grande acquisto, speriamo resti con noi, Mirko D'Aluca. Tanto ora, fino a fine stagione, sicuramente qui. Mirko è rimasto impressionante. Fammi capire, come ti muovevi che Mirko è riscaldato? Beh, si riscaldava probabilmente, mi sembra di intuire, no Giulio? Che avendo l'esperienza e la classe che ha lui, non che gli altri non sanno fare a riscaldare. Non lo so Mirko la cosa, è rimasto impressionato quando ti riscaldavi. Quindi non lo so. Ti ringrazio, ma lo ringrazio. Va bene. Allora, andiamo avanti. Buonasera, come ho già scritto in passato, la Reggiana ha un monte e scrive monte maiuscolo proprio. Ha un monte in gaggi che si aggira sui 5 milioni di euro. Non so se la cosa corrisponde, Giulio. Mi sembrano un po' tanti. Sono tanti, ma non direi tantissimi da quelle parti. Una cifra enorme per la Lega Pro. Beh, effettivamente sì, è una cifra. Però prima o poi lo vince e i campionati sono fatti. Ma non basta. L'anno scorso arrivava la seconda a un pelo e questa cosa lo vince. È chiaro che se hai quelle disponibilità economiche, è più facile fare le squadre. Forza. Sai come si dice a Lucca? Sai come si dice a Lucca? Senza Lilleri è un silallera. Quindi si dice anche a Pisa. Si dice anche a Pisa. Allora, è Massimo da Pisa. È un grande tifoso del Pisa che è un nostro però amico che tutte le settimane ci scrive qui a Curvo Ovest. Perché noi ormai siamo trasversali. Certo. Voi siete una squadra, dice, lui quando si rivolge alla Lucchese dice voi. Voi siete una squadra che può lottare per il playoff, però dice dal quinto posto in giù. Stessa situazione per il Pisa. Cordiali saluti. Quindi Massimo ci ha fatto le case. Ci ha deciso. Per il Pisa e per la Lucchese. Sono Gabriele Serra da Moriano. Forza Lucchese e speriamo bene con il nuovo proprietario. Il nuovo proprietario, ne abbiamo parlato a Giulio due settimane fa, il signor Bulgarella. Ora aspettiamo aprile. E vediamo. Vorrebbe esserci la ratifica di tutto quello che è. E vorrei vedere. No, no, no. E poi dopo. Un mese se ne parla, poi dice, no, aprile se no mi scherzavo io. L'opinion leader è lì sul fiume pronto ad aspettare. No, no, io te lo sai come la penso, l'ho già detto. Io, grande persona mi dicono molto, ha parlato bene. Molto impegnato anche sul sociale. Certo, quindi diciamo non si discute assolutamente la persona, non si discuterà quando avrà fatto la squadra al primo anno, si vedrà quello che è l'investimento che farà, si vedrà che squadra tirerà fuori e poi ci sbilancieremo anche noi scettici. Per ora non possiamo... Non mi fa intendere, no, 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 no. Cettici sul fatto che prima di Bulgarella mi sembra erano arrivati 4 o 5 che col primo si andavano avanzare da 5 anni e siamo falliti, col secondo facevano lo stadio e siamo falliti, col terzo, col quarto, col quinto, col sesto, col sesto... Ha ripercorso in 20 secondi la storia della Lucchese degli ultimi 15 anni. A scatola chiusa diceva una pubblicità, non compro neanche a Rigoni e quindi aspettiamo, no, a parte le battute. Sono sicuro, straconvinto che farà e farà bene, però io aspetto di vedere con gli occhi. Ora lui è giovane, forse non si ricorda, è del 90, tra l'altro è nato, tu sei nato nell'estate delle notti magiche, nel campionato del mondo. Io e lui eravamo già grandi, pensate, ma la pubblicità quella della Rigoni che dice lui mi ha fatto ridere, perché io me lo ricordo quel carosello lì, c'era il gatto Silvestro, te la ricordi? Mi ricordo che c'era una pubblicità... No, e quindi i gatti Silvestri a Lucca, ne sono passati in questi anni, lo possiamo dire. Sì, anche Titti è passato, oltre che il gatto Silvestro. Mangiatore di ostri che via dice, no, sono stati 15 anni, Diego veramente... Poi avrai notato che negli spogliatori giù sotto ci sono tante foto belle con lo stadio pieno, eccetera, eccetera, poi qualche debito lo ricorderai magari da tifoso avversario, quando eri ragazzino. No, perché dal ragazzo non ci sei mai venuto a Lucca a vedere la partita. Però me lo ricordo, avevo degli amici che insomma venivano, me lo ricordo che erano. Quindi da quelle foto, quando entri in campo con queste partite qui e vedi che c'è mille persone sugli spalti, obiettivamente qualche domanda te la sarei fatta anche te, no? Ti sarei chiesto come mai prima ci andavano 7-8 mila persone e ora ce ne vanno mille? La risposta è quella lì, la domanda. Cioè noi a 15 anni che veramente prendiamo schiaffi in faccia. Tre fallimenti in 11 anni. Tre fallimenti in 11 anni. Dal 7, dall'8 al 18, dall'8 al 19. E' sempre realtà che poi ripartivano ma con poche risorse e quindi sempre obiettivi minimali. Ora con questo nuovo proprietario speriamo di... E' tornata la speranza. E' tornata la speranza però ripeto, io siccome mi sono bruciato troppe volte... E beh, sei diventato un po' come Sant'Omazzo. E sono diventato... Soffio anche, così come si dice a Lucca, per paura di bruciarmi soffio anche sull'insalata io. Linda, conosci Linda? No, la sapevo, non la sapevo questa, mi hai detto qualcosa di no. Buonasera, sono Linda, che è una grande tifosa della Lucchese, che ha un unico difetto, parla sempre bene dell'opinione leader. Non può fare diverso a me. Voglio fare un grande saluto a Dieguito, ti chiama, ti chiama Dieguito. Personalmente sono i calciatori come lui che mi hanno fatto innamorare del calcio. A proposito, non so se avete visto il primo gol di Di Maria stasera. No, sono qui. L'ho visto, l'ho visto io. Sono qui e vabbè, parliamo di Di Maria stasera. Anche perché ne ha fatti tre, tripletta di Di Maria. Ma voglio sottolineare la sua simpatia, ora parla di te invece, e la sua umiltà che ho percepito da quando è arrivato. Voglio chiedergli, qual è il giocatore, compagno o avversario più forte che hai incrociato? Penso si riferisca alla tua carriera. Di Natale. Di Natale. Sottolo di Natale. Sì, sì, sì. Il giocatore più forte è ancora il giocatore. Tanto di cappello. Che ricordo ha, ti chiede, che hai, del tuo primo gol in Serie A a Cesena? Con l'Empoli, no? No, con l'Udinese. Ah, con l'Udinese, sì. Con l'Udinese. Bello, è stato bello, ma quello che ricordo un po' di più è quello che feci contro il Catania, che fu, era tipo l'ultima partita. Sempre con l'Udinese? Sempre con l'Udinese, sempre quell'anno lì, che era l'ultima partita che se si vinceva si andava, si andavano nei preliminari di Champions e il Napoli rimaneva fuori. E quindi feci i gol, e quello è il gol, diciamo, che mi ricordo meglio, a cui, diciamo... Sei più legato. Sì, bravo. Perché forse ti ha dato anche più soddisfazione. Eh, sì, sì. Saluto Giulio, ecco, era stata perfetta. Saluto Giulio, che è sempre il migliore anche quando sbaglia. Eh, vabbè, dai, ha bagliato a piede, ma perché non ha... Lui aveva in mente, perché gioca, pur essendo destra, a sinistra, per poi tornare sul piede, quindi aveva fatto un po' di confusione. Poi, oh, Linda, l'età avanza anche per lui, è mica solo per me. Buonasera, ho avuto l'onore di avere mio figlio nel settore giovanile della Lucchese. Purtroppo gli impianti di allenamento sono scarsi e nella Lucchesia rischiamo di avere giovani sempre più lontani dalla nostra squadra del cuore. Qui si torna al discorso che vorrò fare poi, e vi avvertirò quando l'assessore, insomma, Barsanti, come mi ha promesso, sarà nella nostra trasmissione della domenica sera, domenica replay, sicuramente quello degli impianti, della carenza degli impianti sportivi è un problema che c'è, eh, c'è. Fabbro, mi togli una curiosità, io sto a Santa Maria del Giudice, ora qui, in che zona stai nel paese, mi fa piacere tu abbia scelto il nostro, qui è stato trascinato, se ci vediamo, beviamo un caffè insieme, forza Lucca sempre. Poi non si firma, qui ci mettono, non so quel che sia, Facebook, Story, non lo so che roba beh, per me sono ciroclifici, vabbè, ora non è che poi, questo è Santa Maria del Giudice. Sto a Santa Maria. Conferma che sta, quindi, abitanti, non so come si chiamano gli abitanti di Santa Maria del Giudice. Non lo so, questo non lo so, questo non lo so. Avete, insomma, un paesano illustre, un calciatore della Lucchese, un calciatore che ha giocato in nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Buonasera, volevo avere informazioni, eh beh, qui è come la messa alla domenica, no? Dove il nostro amico Bruno Russo, lui non manca mai, caro opinion leader, e dovremmo prendere esempio da lui, no? Ci chiedono, ci chiedono, buonasera, volevo avere informazioni sulla situazione stadio, Fabrizio. Ma hanno detto che entro la fine, entro la metà di marzo dovrebbe arrivare il progetto definitivo, quindi a questo punto, continuiamo a stare tranquilli. Assolutamente. Fabrizio, e lo dice lui, quindi, poi giovedì scorso anche Bruno Russo sembrò. Buonasera, il calcio senza giocatore di Estro e Fantasia sarebbe un gioco, e tanto, tu l'hai visto il progetto del nuovo stadio? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Beh, insomma, bello, eh? Verebbe fuori una cosina mica... Sarebbe come tornare indietro di qualche anno, perché mi immagino che in Inghilterra gli stadio più o meno siano tutti così. C'è anche gli stadio inglesi quando è così, tutto chiuso, tutto coperto, no? Che quando diluviano non ti bagni e rischi veramente di stare a letto una settimana. No, 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 a parte quest'anno ha piovuto poco, per fortuna, bisogna che piovesse anche, che poi la riempia un fuori. No, perché ragazzi, vediamo certe scene, ultimamente i grandi fiumi del nord sembrano diventate distese, no, no, è spettacolare. Noi spesso le riproponiamo queste immagini che possano essere quasi, no, un promo, un incentivo affinché finalmente, no, l'iter è partito, quindi Giulio dice che non si fermerà più. No, no, non si può più tornare indietro. Si può più. Questo qui al volo. Buonasera, il calcio senza giocatori di Estro e Fantasia sarebbe un gioco noioso. Fabbrini, giocatore di esperienza, dotato di buona tecnica, capace di fare la giocata in qualsiasi momento, è Pisano, ma se ci fa vincere le partite li vogliamo bene uguale Andrea D'Alcologno, ma è Pisano che ora intanto sta a Santa Maria del Giudice, Santa Maria del Giudice è Lucca, no? È Lucca. È Lucca, vedi, cosa stiamo a parlare? L'abbiamo detto prima, poi Ripafrattamo, è lì sul confine, dai, insomma dai, tanto è così, lo sai nel calcio, se poi, vabbè, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo, siamo già alle 22, pensa te, noi poi fra mezz'ora dobbiamo chiudere, ma abbiamo ancora tanti argomenti, stasera abbiamo preparato anche la probabile formazione, Giulio? L'hai preparata? No, no, io sono, l'abbiamo, l'abbiamo preparata, sì, dobbiamo vedere le immagini anche di Virtus Entella, Montevarchi 3 a 0, dicendo però che la Virtus Entella è una di quelle squadre che abbiamo sempre detto, che se vuoi vedere la Serie B il prossimo anno fa l'abbonamento a Scala, ma è nel novelo delle prime tre o quattro del nostro girone, se poi l'Entella va in playoff, ora, no, ci va sì è playoff, è terza, è putacaso, è putacaso, non si sa mai, vedrai quando trova le squadre del Sud, verrà la comitiva di tifosi dell'Entella qui sotto la sede, volentieri, li porto tutti a cena fuori, che ti sbilanci dopo il Cesena che l'Entella, perché il Cesena poi comunque va in playoff, ti sbagliare, vedrai quando non contro le squadre del Sud, se ne accorgerai. Vabbè, non c'è nulla di scontato. No, no, vedrai, vedrai. Vabbè, vabbè, linea alla regia e poi torniamo. Eccoci ancora in diretta dagli studi di Curvo Ovest per questa ventitresima puntata stagionale. Allora, dicevamo di vedere, Diego, le immagini di Virtus Entella Montevarchi 3 a 0, che qui dobbiamo, insomma, cominciare a parlare di questo Montevarchi, partita che non dico che avete già del tutto preparato, perché c'è ancora l'allenamento di domani e poi la rifinitura di sabato. All'altro poi, Opinion Leader, non so se hai il polso della situazione tifosi per Montevarchi. Ma c'era sicuramente un pullman già organizzato da un paio di settimane. Sì, quello ne avevamo già parlato. Era già, diciamo, quasi saurito. Facciamo 150-200. Penso di sì. Non ci sarà, diciamo, non ci sarà nel 500, dove era? Io a Siena, dove era? No, no, penso di no. Quello magari no. Vabbè, senti, Montevarchi, abbiamo detto, la posizione classifica in questo momento li vede all'ultimo posto. Come la state preparando, come si affrontano queste partite? Ma penso che si stiamo preparando come le altre partite. chiaramente bisogna cercare di andare lì e di far bene e di cercare di vincere. Sicuramente non sarà facile, perché le partite non sono mai facili. Però, chiaramente, noi bisogna andare là per vincere. Avete già vista la partita? La vedete di solito la partita dell'avversario? Chi sono allenatori che ve la fanno vedere? No, ci si prepara principalmente sul campo, poi si vede un po' di cose, si vedono chiaramente dell'avversario. Dei tuoi nuovi compagni di squadra conoscevi qualcuno? No, conoscevo nessuno. Proprio nessuno? No, no, nessuno. Che impatto hai avuto? Ne parlavi prima, poi abbiamo cambiato argomento. Positivissimo. Hai detto che hai avuto un impatto molto buono con tutto l'ambiente, Lucchese. Sì, molto bene, un bel gruppo, bravi ragazzi. Bene, bene. Ma si dice spesso che… chi era Giulio? Enrico che diceva, il leggendario, che diceva che i bravi ragazzi si fanno sposare? Era lui? Sì, era ordine. I bravi ragazzi si fanno sposare alle figlie? Sì, lui diceva che i bravi ragazzi fateli sposare alle figlie, a me datemi i figli di… Eh no, vabbè, i figli di… I figli di che io sono contento. Va bene anche una via di mezzo, eh? Sì, sì, ma insomma, lui ne ha addrizzati tanti, eh, onestamente. Sì, fra uno e l'altro che ogni tanto attaccava al muro, però insomma. Buonasera, sono Fabio da Spianate. Volevo chiedere a Fabrini una cosa. Cosa ti è mancato per sfondare a grandi livelli? Perché effettivamente abbiamo detto, insomma, uno dei pilastri di quell'Under 21, poi addirittura l'esordio nazionale. Ciao e sempre, forza Lucchese. Ma sicuramente ho fatto degli errori io, sicuramente, quello sicuramente. Poi magari ho avuto qualche incomprensione, qualche allenatore ce l'ho anche avuta. E quindi, penso… Mettendo insieme queste cose. Insieme di cose. Non è che hai fatto una carriera poi… No, 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 però ho capito cosa voleva di lui. Tanto di cappello, però certo che, so, le tue qualità mi fanno capire che forse… Dio buono, sì. Eh? Questo Dio buono potevi fare di più. Sì, 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 sì. Uno come te credo che Serie A ci poteva stare anche nella nostra Serie A, no? Potevo fare di più, di più, sì. D'accordo, hai ragione. Va bene, va bene, però, ragazzi, tutti quanti a modo nostro possiamo avere… Tu come calciatore e noi in altre cose, anche delle punte di rimpianto, di dire magari potevo… So, io potevo fare radiocronista, a me mi è sempre piaciuto fare radiocronista. Sì. Io nasco come radiocronista. Potevo fare radiocronista, tutto il calcio minuto per minuto, e dare io la linea a Sandro Giotti, che è stato il mio mito. Però non è successo, sia perché erano quelli di un'altra generazione, veramente io li chiamo gli antichi cantori, non so Giulio se ha… No, sei contento? Sì. No, anche io ho avuto qualche incomprensione con i miei allenatori, ma… Eh, anche te, vedi? Sì, sì. Vabbè, andiamo avanti. Allora, siete tantissimi. Buonasera, voleva… No, questo è quello di prima, che ha mandato… voleva informazioni sullo stadio. A Grosseto il nuovo patron Lamioni, qui parla del Grosseto, ha speso 700 mila Euro, quindi sanno anche per ripianare i debiti e il mercato di dicembre, lui è un grossetano doc, molto ambizioso. Possibile che a Lucca non ci sia una persona come lui che ama il calcio, un grande saluto a te Giulio e Roberto di Castenova. Beh, Roberto, però, dobbiamo avere fiducia, tra l'altro Castenova in settimana ha cambiato l'allenatore, ha fatto la staffetta, di due, quel considero tra i terzini e i sinistri più forti che ha avuto il Castelnuovo negli ultimi vent'anni, Cipolli e Contadini. Desonerato Cipolli è arrivato Contadini. Però, Roberto, l'abbiamo detto prima anche con Giulio, che so che è il tuo idolo, dobbiamo avere fiducia adesso in Bulgarella, no? Certo, certo. Fino a prova contraria, no? Certo, certo. E se no… No, per carità di Dio, cioè non è che io voglio fare il menagrammo a tutti i costi, ci mancherebbe, però io personalmente voglio vedere i fatti. Poi, sono il primo che… Fatti, non parole. Certo, certo. Gli abitanti di Santa Maria del Giudice si chiamano Santamariesi. Ecco, quindi tu sei un Santamariesi. Io sono Santamariesi. E comunque aggiungono, e questo è Fabrizio 82, è comunque uno dei paesi più belli della Lucchesia. Tiè, beccati questo, eh? Eh? Vabbè. Sei d'accordo, no? No, io sono sempre andato… Non puoi contraddire Fabrizio. No, ma poi noi… Mi semblava che… Ma poi noi di San Concordio avevamo l'amicizia a San Lorenzo a Vaccoli… San Concordio? San Concordesi? No. San Concordiesi. San Concordiesi, ho capito. Poi avevamo l'amicizia a San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice… Ora sei san donatese invece. No, no, sempre san concordiese. Ma non sei a San Donato? No, no, San Concordio è sempre. San Concordio dove stai? Sempre San Concordio. Ma sei anche te sul limite lì? Sono sul confine. Fai un passino. Sono sul confine. Sei scolletto… Ma come gli abitanti di Galleno, incredibile. Il paese di Galleno credo che sia attraversato da due o tre province. Gallenesi? Come sono? Gallenesi. Gallenesi. Quelli gallenesi con la E chiusa, però. Abbiamo il collega Massimo Stefanini che è gallenese dopo. Gallenese. Gallenese. Buonasera a tutti in studio. Volevo dire una cosa a Fabbrini. No, si sono scordati la N. A Fabbrini. Grande giocatore. Ma la palla si passa di più. Ci provo. Vabbè, l'allenatore dia più coraggio alla squadra in campo. Sempre zitto e fermo. Ma questo non vuol dire che non dà coraggio alla squadra, signori. Vabbè, qui sono abituati a Lucca storicamente. Ne parlavamo proprio con Bruno Russo giovedisco. Qui c'è poco da fare. Qui Enrico ha lasciato il segno. Dopo Enrico è venuto Guido Pagliuca. lo stesso Pagli era abbastanza. Favarin che è andato, come sappiamo, al tau calcio. Piacciano gli allenatori quelli vivaci, però non vuol dire che Maraia non sostenga la squadra. Allora, nel bene e nel male, Lucchese è questo. Lucchese non è il Lucchese che trascina la squadra. Questo è Casta da San Vito. È la squadra che deve trascinare il Lucchese. E se all'interno della squadra c'è un trascinatore... Parla dell'allenatore, però. Sì, sì, ma va bene, è uguale. Tanto fa parte dello staff anche l'allenatore. Ma se c'è un allenatore che trascina o magari nella squadra c'è qualche leader che trascina, il Lucchese si fa trascinare. Siamo Lucchese, cioè siamo Toscani atipici noi. Questo l'ha sempre detto. Tu che sei stato anche governatore, no? Tu sei stato governatore della Repubblica di Lucca. Francesco Burlamacchi, certo. Questo risale a quanto? Era qualche anno. A parecchio tempo fa. No, no, purtroppo è così, capito? Storicamente siamo sempre stati abbastanza sulle nostre, capito? E quindi ce lo portiamo dietro a questa cosa qui e siamo... È un po' verso antico, dai. A Lucca si dice che non siamo Toscani, ma si confina con la Toscana. Buonasera. Dopo la batosta rimediata con i leopardiani, che sarebbero quelli della Re Canatese, ci voleva una Lucchese a trazione pisana per battere i rossiniani. Spettacolo. Antonio, sei uno spettacolo, devo dire. Con l'entrata di Fabbrini e di Quinzio, la squadra ha cambiato marcia. Penso che da qui in avanti si dovrà puntare, lui sa già quello che va fare, sul tridente leggero. Allora, visto che ci danno consigli per gli acquisti, per la formazione, Marco, quella formazione che abbiamo preparato è naturalmente ipotetica, perché avere la presunzione di poter fare... Noi non ti ci avremmo messo. Non ti ci abbiamo messo? No, guarda, figura. L'opinio lì ha detto, guarda, mettimela così e io ho rispettato. Guarda, io non ho rispettato. Io non ho rispettato. Ah, ho capito. Ma ci stai dicendo che potresti essere lì, domenica, in quella... Ma io ti ho detto nulla. Allora, buonasera dopo la... Comunque continuo e dice, la squadra ha cambiato marcia dopo il tuo ingresso. Marco, levala, Marco, levala, fammi spiacere. Penso che da qui si dovrà puntare sul tridente leggero. Il tridente leggero lo sai com'è, Diego? Bruzzaniti, Panico e Fabbrini. Beh, Panico non mi sembra dato leggero, però, eh? Bel... Sì, però, insomma, è... Vabbè, sì, non è Bianchimano o Romero. Però dice, Bruzzaniti, Panico, Fabbrini e Rizzopina. Lui ne mette quattro, quindi, vabbè, magari. E si firma Antonio. È piaciuta la discorsa Leopardiani. Chi era che faceva il 4-2-4? Chi lo faceva? Maran? Ventura. Ventura al 4-2-4. 4-2-4 l'ha fatto anche Conte. Sì, è vero, all'inizio. È vero o no? L'ha fatto anche Conte. Sono sempre Linda. Allora, Linda, visto che lunedì è il mio compleanno, chiedo a Diego un gol domenica come regalo. Eh, Linda, allora ti facciamo... Ora non abbiamo tempo di mettere la famosa canzone degli straordinari Poo, Linda. Però ti facciamo già gli auguri in anticipo. Pensavo che tu volessi fare il coro MPB. No, no, no. Vabbè. Ci proviamo, certo. Proviamo per Linda? Sì. Linda, guarda, è una grandissima tifosa della Lucchia. Ci proviamo. Io penso che se rimani qui a Luca, come ci auguriamo un po' di tempo, avrai modo di conoscerla poi, eh. Sicuramente, sicuramente. Va bene. Ma siamo andati oltre, no? No, 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 no. Ah, ecco. Ovviamente dal quinto posto in giù non voleva essere un'offesa né uno sminuire la vostra forza. No, no, ma... Ma come anche in Serie B per il Pisa, ci sono 4-5 squadre più forti e più attrezzate. Di nuovo, cordiali saluti, Massimo da Pisa. Eh, quindi, vabbè, però... No, ma mi trovate accordissimo, eh. È quello che ho detto anch'io. Sì, no, ma Massimo è sempre molto... Obiettivo. Eh, ma questa è Diabolic. Poi i tifosi da Lucchese hanno tutti dei nomi di battaglia un po' particolari. Non mi hai mai detto se tu avevi un nome di battaglia, però. Te lo dirò poi. Ah, ecco, vedi. La sera ve l'ho pizzicato. Dice Diabolic, Diego, te lo spiego, se Giulio dice che sei sinistro, sei sinistro, punto. Oh, grande Diabolic. Allora sei sinistro, sono mancino. È una vita che gioca, è una vita che ti sbali, sei sinistro. Cos'è questa storia che va oggi nel calcio degli ultimi tempi, ma forse che si gioca a piede invertito? Secondo te è veramente utile? Che una volta l'ala destra, si chiamava la destra, giocava a destra, quello a sinistra, a sinistra. Dipende del tipo di giocatore, sì. Chiaro. Perché hai più... Per esempio, dal mio punto di vista è meglio. Quindi tu che sei destra, giocante a sinistra, convergi. 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 Anche quando ricevi la palla, la copri, perché la stoppi di destro, è sempre coperta la palla, no? E quindi c'è una ragione ben precisa. Dipende, a seconda poi delle caratteristiche che ognuno ha. Però a seconda di che caratteristiche hai, giocare a piede invertito può essere, secondo me, può essere meglio. Può essere un vantaggio. Le caratteristiche di Diego Fabbrini ci fanno capire che essendo destro, se giochi a sinistra sicuramente sei avvantaggiato. Sì, secondo me sì. Secondo me nei ruoli come il suo sì. Secondo me invece... Dietro è diverso? No, per dire, gli esterni, quelli che scendono e vanno sul fondo e crossano. Ma gli esterni, tipo quando gioca a sinistra Visconti o Quirini, insomma loro. Sì, perché se arrivi in fondo devi cambiare il piede per il crossano, sei rovinato. Appunto, appunto. Però ci sono stati anche lì nella storia del calcio dei calciatori che noi abbiamo nell'immaginario collettivo come grandi terzini sinistri che però magari di piede erano destro. Il compianto Giacinto Facchetti era destro di piede. Era un altro calcio. Poi Maldini stesso, no? Quindi voglio dire, sì, no, no, vabbè, il calcio cambia sicuramente e si evolve in continuazione. A te ti piacciono le squadre che partono? Ora c'è questa moda di partire per forza dal basso, oppure sei ancora per un calcio, diciamo, che in qualche modo sta tornando? Perché ad esempio la squadra top del momento, il Napoli, secondo me gioca anche un calcio un po' più verticale. O anche lì ci vogliono gli interpreti poi? Sì, bravo, ci vogliono i giocatori. A seconda dei giocatori puoi fare un gioco o un meno, cioè più un gioco o meno, però dipende dal giocatore che c'hai. Allora, siccome ho capito che a parte i due santoni che hai avuto quando giocavi nel settore giovanile dell'Empoli, con altri allenatori qualche volta hai avuto qualche problema, ti chiedo, perché è una domanda che ormai sembra l'undicesimo comandamento, quanto incide l'allenatore in una squadra di calcio? No, è importante, chiaramente è importante. C'è chi ha fatto il percentuale, ha detto il 20-30%, adesso diamo l'allenatore. No, il 20-30% no, chiaramente l'allenatore è quello che comanda, è quello che mette in campo il giocatore, decide come si gioca, quindi sicuramente è importante nel quadro. Nella gestione del gruppo. Nella squadra, sì, soprattutto nella gestione. Quindi bisogna considerare anche quell'aspetto lì, di come poi si vive durante la settimana, di come gestisce anche i rapporti, che siete 20, oggi siete 25, 30 giocatori diversi, ognuno con una personalità, e quello è l'aspetto forse, al di là di quello che si vede poi sul campo. Sì, soprattutto poi a seconda di che livello diventa più gestionale, secondo me. Più in su vai forse. Più gestionale, bravo. Poi con tutto rispetto, se ti ritrovi in un'annata come questa, due fenomeni come Osimè e Carasveglia, no caro Giulio? Senza nulla togliere alle capacità di Spalletti. Va bene, ultima pausa pubblicitaria, poi torniamo e facciamo le ultime considerazioni con Diego Fabbrini e con il nostro Opinion Leader che ci dirà anche se sarà domenica al Brilli Peri. Te lo dico già, no. No, stai perdendo colpi in trasferta. Sì, quest'anno nemmeno una. Nemmeno una ne hai fatta. Niente. Ho capito. A tra poco. Allora, siamo entrati... Mi facevi cenno cosa? Ti facevo cenno che Cervelli, ragazzi... Cervelli mi piace Cervelli. È magnanimo. C'è molto magnanimo. Ma magari sei sbagliato, ci dici che dobbiamo chiudere prima. Non lo dire. Allora, senti questa Diego. A proposito, il nome... C'entra nulla con quel periodo lì, no? No, no, c'entra nulla. Ah, ecco non c'entra nulla. No. Che era proprio il periodo del grande Diego. Ho avuto la fortuna di vedere giocare Diego nelle giovanili dell'Empoli. Ed era uno spettacolo in campo. Un grande in bocca al lupo. Non si firma, però, credo... Lo ringrazio. È un bel messaggio questo. Anche perché mi sembra che a quegli anni lì e all'Empoli sia rimasto particolarmente legato. C'era già il presidente Corsi? Sì, sì. Che ha avuto modo di piacere di conoscere lo scorso anno al premio Fidelità allo Sport, di cui era ospite ed è stato premiato. Beh, ma qual è il segreto dell'Empoli? me lo spieghi. Ce lo spieghi. Ha bisogno di becchiare la favetta. No, no. Perché ci sanno fare. Probabilmente sono persone anche... Sono persone competenti, sono strutturate e hanno sempre fatto il settore giovanile e hanno sempre tirato fuori tanti, tanti giocatori. Ogni anno poi. Guardate che a parte le grandi squadre, ma tra le squadre diciamo non di grandissimo blasone e penso che dopo l'Atalanta il settore giovanile dell'Empoli anche in questi ultimi 20-30 anni è quello che ha fatto meglio di tutti. Ti considera che l'Empoli è dalla stagione 95-96 che non conosce l'onta della serie C. Che oscilla tra la via. La via è la B, la via è la B, la via è la B, la via è la B. Parliamo di una città che non ha le dimensioni di Luca. Non fa neanche provincia. Quindi tanto di cappello agli amici di Empoli. Credo che abbia 40 mila abitanti circa in questa città. Eh, fatti, tanto di cappello. Quindi però sono partiti con Pino Vitale, Pino Vitale ha gettato le basi e poi... Possiamo dire grandissimo Pino Vitale. Certo, certo. Anche per quello che ha fatto a Luca, grandissimo. Ce ne vorrebbero uomini di calcio così, tanti. Non ce ne sono più. Beh, insomma, Luca aveva un presidente come il compianto egiziano Maestrelli. Aveva un direttore come Pino Vitale. Aveva un allenatore come il fantastico Corrado Rico. E insomma, le cose poi non vengono mai a caso, no? Qui fanno anche gli spiritosi. Il tuo amico Manolo. Ora, su questa cosa mi sa che non ho capito ancora se Fabbrini è sinistro o destra. Manolo è un mio amico, era dietro di me a vedere la partita domenica sera. Allora, ciao sono Daniele, a noi ci manca Osimè. Quindi fanno gli spiriti. Ragazzi, che se... Ah, basta anche un po' meno d'Osimè. No, no, Osimè non esageriamo, però... Vabbè, è così ragazzi. Allora, leggiamo proprio... Tanto prepariamo un po' anche la tabella delle partite. A questo dice, però non si firma, dice Io vi rinnovo i complimenti per la trasmissione. Noi ringraziamo, no? Certamente. Noi ringraziamo quando ci arrivano le critiche, le accettiamo. Certe volte le controbattiamo. Io mi arrabbio, lui si nervosisce. Però fa parte del gioco. Quando ci arrivano i complimenti... Critiche, critiche, onestamente. Eh, ma sono arrivate anche quelle. Sì, vabbè, ma insomma, dai, giusto da qualcuno che non conosce. Ma che critica tutto e è un po' sparito dalla circolazione. No, vabbè. Sarà morto. No, no, no. Dio, però... Questo non si firma, va bene. Poi, sono d'accordo anch'io con l'opinion leader. Il playoff lo vincerà una squadra meridionale, il crotone Fabrizio da Castagneto Carducci. Ora lui lo fa e congolare. Allora, Fabrizio, se indovina anche questa, si gioca insieme al Super Nelotto, perché siamo miliardari. Questo invece dice, parlando di playoff, vince la Lucchese con le squadre del Sud. Eh, ragazzi, ma il calcio è strano. Spero che non si svegli mai da quel sogno. Ma lui è giovane, ma quante ne abbiamo viste nel calcio? Di sorprese non clamorose, di più. Eh, Giulio? Sì. Si chiamano miracoli. L'anno che sei nato te nel 66, che io ero già... Non lo ripetere, non lo dire. No, va bene, ma... Più o meno, da quegli anni lì. Da quegli anni lì. Da allora in poi ce ne sono state tante sorprese nel calcio, no? Sì, ma si contano... Tu che sei stato in Inghilterra, lo scudetto... Del Lex. Il titolo del Lester, di Claudio Ranieri, fecero una... Avevano anche dei bei giocatori, eh? Perché voglio dire, c'entravano... No, non è che era una squadra proprio... Però, insomma, fecero una cosa grandiosa, no? Miracoli. Perché anche in Inghilterra poi vincono sempre i soliti, mi sembra. Ma si chiamano miracoli, infatti, quelli... No, ma non sono miracoli. Miracolo Verona, il miracolo Sampdoria... E da noi è un po' che non capita più una cosa... Il miracolo lucchese, onestamente... Perché è diverso. Perché, ora, se vince il Napoli, come tutto lascia supporre, non possiamo mica parlare. Il Napoli è una grande città, una grande piazza. Cioè, non stiamo a parlare di... Però, però, quest'anno il Napoli ha fatto un miracolo, perché ha venduto fior di giocatori... Eh, ci hanno saputo fare. Ha preso altri due o tre elementi che gli hanno fatto fare la differenza. In un campionato scarso come quello della Serie A. Qui ti dicono, Fabbrini, portaci in B. Ti si fa una statua in piazza grande. Ora, non credo che vuoi la statua, no? No, no, un po'. Tutti al più gliela fanno Santa Mariae. Poi lo sai le statue a chi le fanno, eh? Eh, bravo, no, no, un po'. Però aggiungono... Però aggiungono, vogliamo un centro sportivo a Lucca, come si deve. Eh, beh, qui, vedete, qui stanno chiamando, state chiamando negli studi di Noi TV, il buon Barsanti. Qui vi annuncerò quando verrà, tranquilli. Poi, saluti Sant'Anna Pois, questi sono i Sant'Anna Pois, tutti a Montevarchi. Siamo quasi in chiusura, ma ce ne sono tantissimi. Allora, dicono di uno dei tuoi maestri. Ettore Donati ha giocato a Lucca. Eh, infatti, l'avevo detto. Te invece hai giocato, però non so se di chi parla, adesso se parlano, con Marianini, Tosto, Vannucchi e Fanucchi, tutti grandi. Hai giocato con tutti questi? Sì, prima a Empoli, prima delle prime squadre. Marianini, Tosto, Vannucchi e Fanucchi. Sì. C'è il contratto fino a giugno? Fino a giugno, sì. Quindi? La voglia di rimanere sì, certo. La tua intenzione è quella. Hai fatto un'intervista proprio in queste ore dove hai detto, però l'hai detto in modo esplicito? Ieri mi sembra. Eh, che hai detto? Che nella mia intenzione, chiaramente, è di continuare. Ti è l'uomo. Eh, che sì. Fabbrini, giocatore di altra categoria, si vede, dribri, in tiro, freddezza, controllo e tocco palla, da Lieno. La palla non gliela levano neanche se lo placcano, è una visione degli spazi che nessun altro in Serie C. E beh, c'è, Diego credo proprio che, insomma, per questa categoria... Poi si è dimenticato in Modena, perché Modena comunque è stata una tappa importante. No? Forse ti sbagli con un monimo. C'era uno che si chiamava... Eh, c'era uno che si chiamava Fabbrini che giocava nel Modena. Sì, sì. La scorsa partita, dicono, Diego... Se le figure di me le hanno fatte fare... Capita! La scorsa partita hai fatto un taglio spettacolare nello spazio vuoto, ma il compagno non ha capito il movimento. Diego, sei superiore, ancora qualche settimana in gruppo e sarà, come il motore per una macchina, indispensabile. Continua così, ci toglieremo delle belle soddisfazioni, avanti tutta. Hanno grande fiducia in te, eh. Beh, mi fa piacere. Eh, quindi io penso che Diego sia pronto... Poi, vabbè, buonasera a tutti, non so se ci rendiamo conto che abbiamo stasera a Curvo Ovest. No, no, io mi sono reso conto. Siamo partiti parlando di uno che, insomma, ha giocato il Nazionale, tante partite con l'Under 21. Diego Fabbrini, mentre per quanto riguarda il campo, tutti i tifosi se ne sono resi conto. Vederlo giocare è un piacere. Stoppa la palla un centimetro dal piede, visione periferica fenomenale, avvertimento ai suoi compagni. Non aspettate il passaggio della palla sui piedi. Fabbrini la palla la mette negli spazi vuoti. Quindi danno so. Quindi dovete correre forte. Diego ha un solo difetto, sei troppo generoso. Ogni tanto tira in porta e poi corri sotto la Ovest che ti aspetto. Prendi pure le misure con la partita di Montevarchi. Forza e onore. Ionni, altro nostro amico. È un minuto, guarda, proprio l'ultimo. Buonasera da Mario Santini Capello, grande tifoso che ci chiama da Firenze, ma lui è grande tifoso. Un bravo a Fabbrini, peccato che sia arrivata a gennaio perché con lui in campo la Pantera cambia pelle. Vorrei chiedere a Diego se rinnoverebbe con la Lucchese anche per il prossimo anno. Ce l'ha appena detto, quindi Mario sì. Che sensazione hai avuto quando ti hanno comunicato che saresti venuto a giocare a Lucca. Complimenti per l'impegno con cui ti sei proposto, fin dal tuo esordio. Saluti a tutti i mali. Vabbè, l'hai voluta tu la Lucchese, no? Sì, diciamo che ci siamo voluti insieme, insomma. Questa era una cosa, cioè è stata un'idea che mi è venuta a mente e ripeto, io per ora sono molto contento. Il resto per fare un matrimonio, tu sei sposato? Sì, sono sposato. Fare un matrimonio di solito bisogna essere in due. Bisogna essere in due. Ho sentito in questi giorni che c'è chi ha sposato un tempo fa un palazzo, perché aveva... Un garage, non lo so. Ormai c'è la gente proprio... Vabbè, vabbè, dai. Chiudiamo qui. Penso che siamo in difficoltà ad andarci a letto col palazzo, ma insomma... Eh vabbè, ci vedo dentro più. Vabbè. Diego, avrai capito che siamo due pazzi. Vabbè, dai. È stato un piacere averci tu. Tessera t'ho cambiato il piede e t'ho cambiato anche... E t'ho cambiato anche... Diciamo dai, squadra. Ma avevi portato il Fabri di sbagliato, ma dopo fa la zucchero del Modine. Hai avuto la tua serata da recanatese, dai lo possiamo dire. Sì, è vero, è vero. È una serata dove non è andato bene. Dobbiamo chiudere, perché dobbiamo essere precisi. Grazie a Diego Fabri. Grazie a voi. Ti aspettiamo, eh, magari il prossimo anno con una grande lucchese, eh. Grazie di essere stato con noi. Giulio, giovedì prossimo alle 21.15. Marco Cervelli, puoi andare con la linea e puoi andare con Emozione Bike. Vai! Grazie a tutti.